Buongiorno carissimi, bentrovati. Siamo qui alla Gifard di Gionno per le nuove sezioni di corso 21-22. Quest'anno proporremo dei corsi avanzati per quanto riguarda le modalità. Cominceremo con dei nuovi corsi di bassa temperatura per andare a inserire quello che è la cucina pasta molecolare con l'alternativa di implementare anche quello che è la finità dei corsi con quanto riguarda le materie prime. Oltre questo cercheremo di sviluppare e avvantaggiare le persone con crescita ed abbastanza in traccadenza di quello che sia la loro formazione professionale. Per le informazioni riguardanti i corsi www.giannozicali.com o il sito della Gifard. Un buon lavoro a tutti e un arrivederci ai corsi.